Sì, a questo tempo è davvero scambio. E' davvero scambio. Quando ti apprendi a questo tempo... ...dicci stanno in sulle toni. 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 Mandiamogli la peli... ...a fare una vicesina. ...dicci stanno in sulle toni. Sono in sulle toni! E' veduto qui da lungo, e avevo pensato... ...i questo conoscere non si può andare. ...dicci stanno in sulle toni. ...dicci stanno in sulle toni. Undo vedo la mia storia fino a quando ho avuto... ...dicci stanno con la mia storia. ...dicci stanno in affidale di un'altra parte. Grazie a tutti.